bentornato goodyear bentornata ricominciamo una nuova decade andando a visionare la sezione sistema del pannello impostazioni per windows 10 questa sezione ti permette di configurare le impostazioni dello schermo delle notifiche delle varie applicazioni e programmi installati dell'alimentazione del pc o del dispositivo mobile dei dispositivi di archiviazioni delle mappe e molto altro ancora come accedi dal pulsante start vai ad individuare l'icona ingranaggio e dalla nuova finestra clicca sul primo pulsante chiamato appunto sistema si aprirà un'immensa sezione potrà variare in base al dispositivo ed in base all'edizione che avrà installata sul pc una lista sommaria sarà schermo applicazioni e funzionalità applicazioni predefinite notifiche e azioni alimentazione e sospensione batteria archiviazioni mappe offline modalità tablet multitasking proiezioni in questo pc applicazione per siti web ed informazioni su dalla prima sezione schermo puoi personalizzare le tue impostazioni quelle relative appunto al monitor risoluzioni colori caratteri orientamento e altre opzioni con app e funzionalità gestisci le applicazioni e le loro funzioni visualizzi le proprietà opzioni ed eventualmente la loro disinstallazione direttamente da questa sezione la sezione app predefinite ti consente di scegliere i programmi predefiniti per l'apertura dei file con notifiche e azioni gestisci le notifiche del sistema operativo già trattate nella lezione 178 e rispettivo video tutorial la sezione alimentazione e sospensione ti consente di impostare se e dopo quanto spegnere il monitor e accedere alle impostazioni risparmio energia puoi vederne un utilizzo in windows 7 nella lezione 118 rispettivo video per dispositivi portatili trovi anche la sezione batteria nella quale trovi evidenziate le informazioni sullo stato e per gestirne alcune impostazioni per il suo risparmio la sezione archiviazione visualizza le periferiche di archiviazione del pc con lo stato d'uso del loro spazio di memoria può impostare la posizione per il salvataggio di alcuni tipi di file anche in mappe offline puoi scaricare ed eliminare le mappe per l'applicazione della navigazione quella installata inoltre la gestione per aggiornamenti e consumo traffico dati in modalità tablet il sistema operativo gestirà la visualizzazione per ottimizzare l'hardware in base alla modalità da descerta se desktop oppure tablet la sezione multitasking ti consente di impostare la gestione delle finestre che di volta in volta aprirai per ottimizzare il posizionamento delle stesse in relazione allo spazio disponibile e se sei in presenza di desktop virtuali questo per aiutarti a posizionarle senza perdere troppo tempo in proiezioni questo pc puoi decidere se consentire la visualizzazione sul tuo monitor da dispositivi esterni se hai diverse applicazioni per aprire i siti web nella sezione app per siti web puoi decidere quale applicazione appunto installata potrai utilizzare l'ultima sezione informazioni su ti fornisce le informazioni sull'edizione di windows che hai installata ed alcuni parametri sull'hardware del tuo dispositivo bene guter eccoci in zona pratica regliamoci sul pulsante start cliccando con il pulsante sinistro individua il pulsante relativo all'ingranaggio quindi quello delle impostazioni si apre questa schermata e clicca sul primo pulsante sistema qui avrai la lista delle sezioni di questa sezione impostazioni partendo dal primo schermo come puoi vedere in questo caso io ho due monitor ho la possibilità di identificare tramite il numero uno qual è il monitor numero uno o il numero due qualora fosse acceso anche il secondo monitor puoi decidere il tipo di orientamento o regolare le dimensioni del testo tramite questo cursore oppure se hai più schermi decidere da qui se visualizzare su singolo schermo o entrambi monitor duplicando esattamente la stessa informazione che visualizzi sul primo monitor oppure utilizzandolo in maniera separata estendendo sui due schermi hai le impostazioni avanzate che ti permettono di gestire la risoluzione dello schermo in base alle tue necessità oppure gestire i colori dello stesso entrando nel pannello delle impostazioni della scheda grafica scorriamo in basso troviamo anche altri pulsanti relativi alla calibrazione dei colori o relative ad altri elementi di testo torniamo indietro nella sezione app e funzionalità dopo qualche secondo hai la lista dei programmi e applicazioni installate puoi direttamente cercare un'applicazione da questo campo di cerca decidere il tipo di ordinamento se per nome dimensione o data di installazione mostrare il contenuto di tutte le unità oppure selezionare quale vuoi visionare in relazione ai vari sistemi operativi o partizioni o hard disk che hai installato sul tuo computer naturalmente le applicazioni sono installate nella sezione c da questa sezione oltre a visionarli puoi interagire con le applicazioni e decidere di disinstallare su richiesta l'applicazione in oggetto o entrare nella sezione opzioni avanzate che ti permette di reimpostare tutti i parametri relativi all'impostazione se dovesse funzionare in maniera anomala torniamo avanti applicazioni predefinite qui hai la lista delle applicazioni predefinite in relazione al tipo di programma che vuoi aprire puoi cambiarla in base alle applicazioni che hai installato o che trovi direttamente dallo store della microsoft a tuo piacere puoi reimpostare tramite questo pulsante le impostazioni predefinite che sono consigliate dalla microsoft oppure scegliere le applicazioni predefinite per tipo di file quindi con estensione di file decidere tu un determinato file che ha una determinata estensione con quale tipo di applicazione deve essere aperto oppure per tipo di protocollo in base alle tue necessità puoi personalizzare l'apertura del file relativo la sezione notifiche e azioni l'abbiamo già trattata nella lezione dedicata è quella che ti permette quindi di gestire attivare e disattivare le notifiche che ti fornisce il sistema operativo la sezione alimentazione e sospensione ti permette di decidere se e dopo quanto far disattivare il monitor oppure farlo entrare in sospensione oppure entrare nella sezione opzioni risparmio energia per ottimizzare al meglio la gestione della stessa e quindi migliorare eventualmente le prestazioni degradando la parte estetica per così dire nella sezione archiviazioni trovi tutte le partizioni e gli hard disk che sono installati sul tuo pc e decidere dove devono essere ovviamente installate le applicazioni o salvati i file per tipologia in base alle tue necessità quindi potrai decidere ad esempio foto musica e documenti di salvarli in una partizione ben definita oppure semplicemente spostarle successivamente questo pulsante ti permette di differire la posizione dove vengono salvate le mappe offline quindi abbiamo anticipato la sezione relativa a mappe offline che ti permette di eliminare le mappe che precedentemente hai scaricato oppure cliccando su questo pulsante se hai la connessione ad internet e installato il navigatore ti permette di salvare le mappe relative al navigatore se hai una connessione a consumo naturalmente è bene attivare il download per non esaurire tutto il traffico poi anche decidere di impostare o bloccare gli aggiornamenti automatici delle mappe modalità tablet ti permette di selezionare il modo di visualizzazione del tuo desktop che può essere o relativa a un tablet o al desktop oppure lasciare la modalità appropriata per l'hardware che hai installato puoi decidere se richiedere una conferma oppure non richiedere una conferma per il cambio della visualizzazione verso modalità tablet puoi decidere tramite questo cursore di nascondere le icone delle applicazioni sulla barra delle applicazioni naturalmente in modalità tablet per poter ottenere più spazio di visualizzazione in questo caso la disabilitiamo in quanto ho un pc desktop e anche decidere di nascondere la barra delle applicazioni nella modalità tablet sempre per migliorare lo spazio il pulsante multitasking la sezione multitasking ti permette di gestire l'ancoraggio delle finestre che man mano aprirai se lasci attiva tutta questa serie di cursori verrà gestito automaticamente l'ancoraggio delle finestre che man mano aprirai nel momento in cui le esposti da una parte all'altra sul tuo monitor spostando ad esempio da sinistra a destra o viceversa o dall'alto verso il basso se disattiviamo l'ancoraggio come puoi vedere io ad esempio apro esplora file se sposto una delle finestre aperte come vedi non acquisisce l'apertura a pieno schermo impostando invece come era precedentemente selezionato l'ancoraggio nel momento in cui sposto verso l'alto verrà massimizzata la finestra tramite questa sezione puoi decidere se sulla barra delle applicazioni potrai aver mostrata le finestre aperte solo su un desktop oppure su tutti i desktop virtuali che creerai e potrai passare dall'una all'altra con la sequenza di tasti alt tab solo sul singolo desktop in uso oppure su tutti i desktop virtuali che man mano creerai lasciamo appunto così questa impostazione proiezione in questo pc ti permette di utilizzare questo monitor per poter visionare tramite modalità wireless le informazioni che sono visualizzati su dispositivi mobili quali tablet o smartphone in modo da gestire in maniera migliore eventuali presentazioni che ti accingerai appunto a presentare a far visionare in questo caso questo dispositivo non può supportare questo tipo di proiezione applicazioni per siti web mostra quali sono le applicazioni che permettono di visualizzare i siti web e come puoi vedere in questo caso avendo soltanto un tipo di browser installato non mi dà altra possibilità di scegliere la sezione informazioni su ti permette di visionare alcune informazioni relative all'edizione di windows 10 che ha installato e alcuni parametri relativi all'hardware presente sul tuo pc ed eventualmente anche modificare il codice product key o aggiornare l'edizione di windows da te installata e alcune altre informazioni a margine che ti possono tornare utile nell'utilizzo del sistema operativo bene nella prossima lezione ancora informazioni su windows 10 ora un forte saluto ciao a presto da regalo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto